ok ragazzi è arrivato SER scatolone che pesa sigla ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale se è la prima volta che ti sintonizi qui da me io mi chiamo Roby e all'interno della rubrica parliamo di profumi allora ragazzi dopo aver analizzato eclair di lattafa profumo ispirato a biancolatte oggi andiamo ad analizzare SER sempre di lattafa in modo tale che quando sarà disponibile dai fornitori per le ordinazioni sapremo già più o meno di cosa si tratta ti chiedo la solita cortesia se ancora non l'hai fatto iscriviti attiva la campanella che restiamo sempre aggiornati su tutte quelle che sono le novità del canale qui in alto ti lascio anche il mio indirizzo internet è le shop mio personale dove trovi tutti i prodotti recensiti all'interno in vendita ragazzi allora tanta tantissima curiosità pacco pesante non ci resta che andare a vedere subito la presentazione di questo profumo profumo ragazzi come vi dicevo si presenta in questo scatolone bello bello pesante sarà almeno almeno siamo nell'ordine di un chiletto passatemi passatemi il termine allora ce lo fa andiamo a toglierlo subito questa è la sua scatola allora come presentazione la box sinceramente direi che è assolutamente bella nulla da dire questo nero con il rilievo il marchio lattafa al nome del profumo serre sotto non abbiamo nulla abbiamo dietro barcode qr code e bollino di originalità si apre praticamente dal basso verso l'alto la metto così almeno riuscite a vederla anche voi e questa all'interno è la presentazione di serre allora ragazzi diciamo che la tafa ci ha abituato bene in passato con quello che è diciamo una linea di packaging ma qui secondo me al di là che si sente già una nota di vaniglia assurda a girare il packaging direi che parla assolutamente da solo con questo serpente in testa boccetta pesante in vetro vi ricordo solo il formato è da 100 ml eau de parfum sotto finalmente non abbiamo più un bollino adesivo ma abbiamo qualcosa di stampato beh ragazzi le prime impressioni sono ottime direi a livello estetico non c'è praticamente per i miei gusti personali ovviamente nulla da dire e nulla da recriminare andiamo a vedere insieme ragazzi la piramide di questo profumo piramide olfattiva ragazzi come al solito vi lascio poi sovrimpressione la scheda andiamo a vedere subito come apre il profumo allora in testa abbiamo cannella e mandorla amara nel cuore ritroviamo del gelsomino una nota di pomarose o pomarose che è in buona sostanza una una nota che riprende un po la rosa il miele in particolare eccola la vaniglia in buona sostanza e a chi gala wood nel cuore quindi chiudiamo poi con un'assoluta di vaniglia dell'ambra e della fava tonka allora ragazzi abbiamo un profumo che è dichiarato unisex sono d'accordo su quello che è diciamo la lettura per quanto riguarda la la piramide di questo profumo anche qua come nel video precedente di eclair mi sorge il dubbio se sia la stagione corretta per utilizzarlo adesso poi andremo ad analizzarlo insieme alle prime impressioni questo ragazzi è serra io nel frattempo scusate mi ho aperto un po la finestra perché fa un gran caldo faccio una piccola un piccolo passo indietro perché diciamo diciamocela tutta ragazzi la taffa non ha nulla da invidiare a brand più rinomati e conosciuti nel settore per quanto riguarda quantomeno il packaging non voglio più perdere tempo e farvi perdere tempo andiamo subito alle prime impressioni allora ragazzi prime impressioni andiamo come sempre ad analizzare l'erogatore direi bene assolutamente beh insomma la presenza della vaniglia credo che la faccia già fin da subito da padrona e ragazzi andiamo alla moglietta e vediamo insieme quali sono le prime impressioni allora sento una lieve nota speziata di cannella in apertura resa particolarmente amara da una nota di mandorla allora le due note iniziali della piramide si sulla mogliette sono subito ben riconoscibili mi aspettavo alla moglietta sempre qualcosa di più aggressivo a livello di vaniglia invece non è non è assolutamente così profumo ecco le prime impressioni sono quelle sì di un unisex profumo che direi assolutamente da utilizzare nel periodo primavera autunno inverno ecco d'estate eviterei proprio perché comunque ho la sensazione che sia un profumo caldo un profumo profondo un profumo decisamente che ti abbraccia in quei in quei momenti insomma di temperature un po più miti rispetto ad adesso queste sono le prime impressioni che ho sulla moglietta ragazzi non avverto note alcoliche o particolari note insomma legate un po a quello che è l'alcol ho l'impressione di avere qualcosa comunque di qualità sta emergendo meglio un po la cannella per ecco le prime impressioni ragazzi sulla mogliette sono queste ora io lo indosso come sempre a modo mio ecco così esce subito una nota fiorita una nota di fiore bianco che è il gesso mino è uno sicuramente dei miei fiori preferiti avverto così su pelle meno calore rispetto che sulla moglietta profumo fino ad ora ragazzi molto 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 interessante ora piccola pausa per voi e ci rivediamo tra pochissimo per le considerazioni finale bene ragazzi rieccoci considerazioni finali siamo giunti al termine di questo test passatemi passatemi la parola sulla taffa ser io intanto continuo a guardare questa boccetta perché insomma devo dire che la taffa secondo me qui per i miei gusti ovviamente si è superata allora veniamo al dunque che è quello che ci interessa più di tutto cosa cosa dire su questo profumo allora voglio fare questa parte finale divisa tra virgolette in due parti nel senso che la prima parte quindi le prime cose che dirò sono dedicate agli amanti del genere quindi agli amanti del genere speziato floreale dolce ok quindi perché questa è la categoria di questo profumo l'altra parte invece lo andiamo a dedicare a coloro che si devono ancora avvicinare a quello che è diciamo un aspetto di questo genere di profumi con in particolar modo all'interno una nota che è quella della vaniglia quindi la nota vanigliata diciamo così per comodità allora partiamo da quello che sono le performance di questo profumo performance molto 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 buone sia su pelle che su vestiti ha un'ottima proiezione fino alla prima ora dalla sua applicazione cosa succede l'apertura è ben dominata e presente da questa parte di cannella con un lieve tocco di frutta secca sentite amara adesso riuscire ad individuare perfettamente la mandorla è abbastanza difficile però si sente che c'è questo tocco di frutta secca abbastanza amara che con la cannella direi che si sposa molto molto bene ha un ottimo un ottimo contrasto l'evoluzione poi chiaramente da spazio quello che è un sentore di fiori bianchi della della vaniglia che inizia già essere presente abbastanza presto sulla sulla intera durata ecco del del profumo molto bene anche in chiusura delle notte ambrate e di fava tonka un profumo che mi sento assolutamente di consigliare se sei un amante del genere siamo però attenzione ragazzi completamente fuori stagione cioè questo è un profumo che secondo me bisogna iniziare a usare tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno ecco è un profumo da metà ottobre in poi passatemi passatemi il periodo si comporta molto bene sotto tutti i punti di vista anche dell'evoluzione è bilanciato veramente bilanciato molto molto bene quindi è un profumo che se ti piace ti ripeto il genere consigliato assolutamente veniamo alla seconda parte quindi quella dedicata a coloro che vogliono avvicinarsi a queste note abbastanza semplici tra virgolette che possono essere la vaniglia piuttosto che qualche nota dolce in generale ma in generale parlo della vaniglia qui ragazzi se il primo profumo che prendete con delle note di questo genere quindi con la vaniglia in particolare attenzione massima perché la nota di vaniglia o in generale il vanigliato è molto infingardo vi dà la botta iniziale di dire wow buonissimo però con la stessa velocità ha la tendenza a stancarti quindi mai come in questo caso una profumazione di questo genere ti consiglio vivamente prima di sentirla quindi questo è un po il riassunto di quelle che sono state le emozioni che è riuscito a trasmettermi questo profumo di latta fa lo promuovo ribadisco ha delle ottime performance ma siamo completamente fuori stagione ragazzi questi non sono profumazioni per quello che è la mia esperienza e il mio gusto personale da utilizzare in questi periodi in periodi caldi in periodi umidi sono abbastanza difficili si rischia di infastidire ve lo dico con con tutta onestà e obiettività detto questo ragazzi la taffa ser sicuramente per il periodo autunnale invernale sarà presente sullo shop promosso decisamente bene io mi sento di dargli in generale un 8 pieno a questo profumo preghiamo e speriamo bene che i prezzi siano un attimino un po diciamo non pompati all'ennesima potenza come sempre come spesso a cara accade con con le novità i ragazzi per per il momento non ho più nulla da dire su questo la taffa serra vi saluto vi ricordo che attiva la promozione sullo shop fino a domenica e vi ringrazio come sempre e vi aspetto se volete al prossimo video ciao a tutti da novi a presto